Il proceduto odierna sarà assicurato anche attraverso la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. Ricordo antresì che la partecipazione da remoto è consentita alle colleghe e ai colleghi secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento. L'ordine del giorno reca l'audizione informale del professor Emanuele Ottolenghi, senior fellow dell'Istituto di ricerca Foundation for Defense of Democracies ed esperto presso il Centro sul Potere Economico e Finanziario del medesimo centro sulla tematica del terrorismo globale di matrice fondamentalista, con particolare riferimento agli aspetti di cooperazione internazionale, nell'azione di contrasto e agli aspetti di diritto internazionale relativi. Anche a nome dei colleghi della collezione saluto il professor Ottolenghi e lo ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori. Ricordo che la Foundation for Defense of Democracies, fondata poco dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001, è un istituto di ricerca apartitico con sede a Washington che si occupa di sicurezza nazionale e politica estera con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e ridurre o eliminare le minacce poste da avversari degli Stati Uniti e di altre nazioni libere. Fin dalla sua fondazione l'Istituto ha fornito consulenza alle amministrazioni dei Presidenti Bush, Obama, Trump e Biden, nonché al Congresso degli Stati Uniti. In merito al tema dell'audizione odierna segnalo che il 24 febbraio scorso il Consiglio dell'Unione Europea ha rinnovato senza portare modifiche l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti terroristici e in quanto tali soggetti a sanzioni, ovvero al congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie o economiche. Tra le entità di matrice fondamentalista inclusi in questo elenco figurano Hamas, l'ala militare di Hezbollah, la Jihad islamica palestinese e la direzione della sicurezza interna del Ministero iraniano dell'intelligence e della sicurezza. Segnalo altresì che nell'ultimo rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Gutierrez, pubblicato il primo febbraio scorso concernente la minaccia rappresentata da Daesh alla pace e alla sicurezza internazionale, si sottolinea che durante la seconda metà del 2022 tale minaccia è rimasta elevata ed è aumentata all'interno e intorno alle zone di conflitto in cui il gruppo era presente, in particolare nel continente africano, dove Daesh, i suoi affiliati e altri gruppi terroristici hanno continuato a sfruttare le dinamiche e le fragilità prodotte dai conflitti locali, per aumentare la propria capacità di penetrazione. In base al rapporto, per quanto riguarda l'Europa, la minaccia più concreta è rappresentata dai rientro dei foreign fighters, molti dei quali avrebbero collegamenti diretti con i comandi centrali di Daesh nelle zone di conflitto. Fatta questa breve premessa, do ora la parola al Professor Ottolenghi, perché svolga il suo intervento. Molte grazie, Presidente. Onorevoli membri della Commissione, buongiorno a tutti e buongiorno al pubblico che ci osserva anche via Web TV. È un grande onore essere qui con voi oggi. Il tema che vorrei affrontare è quello degli intrecci che esistono tra crimine organizzato, la corruzione e il finanziamento al terrorismo, con particolare attenzione a Hezbollah, il Partito di Dio, è un movimento politico e terroristico che oggi gioca un ruolo dominante in Libano ed è un'estensione della Repubblica Islamica e dell'Iran e concentrarmi principalmente sul suo coinvolgimento in attività criminali. Vorrei aprire la mia analisi, ovviamente facendo una considerazione generale, e cioè che, a prescindere da Hezbollah e dall'ideologia che lo guida, il fenomeno di intrecci e anche simbiosi tra organizzazioni terroristiche e crimine organizzato è un fenomeno che storicamente è conosciuto e che ha caratterizzato molti movimenti con disparata matrice ideologica e la maggior parte dei movimenti terroristici hanno sempre avuto, almeno in parte, bisogno di autofinanziarsi. Questo lo hanno fatto in molti casi, anche nella nostra memoria storica italiana, degli anni di piombo, utilizzando rapine manormata e sequestri a scopo di estorsioni, traffico d'armi e altre attività, però abbiamo visto, anche in tanti altri casi, dall'Ira irlandese a più recentemente lo Stato islamico Daesh in Mesopotamia, come l'autofinanziamento sostanzialmente si affidi anche ad attività molto più di ampio raggio, come il traffico dei reperti archeologici, il traffico umano, il traffico di armi e il traffico di droga. Quindi in questi traffici sempre, prima o poi, le organizzazioni terroristiche si incontrano e si intrecciano con il crimine organizzato per ovvi motivi che nel caso del crimine possono essere guidati da puro e semplice opportunismo, certamente non da una comunanza ideologica. Però, nello svilupparsi, questi intrecci portano a una simbiosi in cui, prima o poi, i gruppi terroristici si evolvono e diventano, almeno in parte, anche vere e proprie organizzazioni criminali. Il Hezbollah, in questo caso, non fa eccezione. Nella testimonianza scritta che ho preparato per la Commissione oggi, che spero tutti abbiano avuto modo di ricevere e spero avranno modo a un certo punto anche di leggere, affronto questo tema in maniera approfondita, cercando di darvi una panoramica e alcune tipologie. Quello che vorrei fare nei minuti che mi rimangono è, anzi, fare un riassunto di questo testo e, viceversa, offrire alcuni spunti ed esempi che, in qualche modo, possono aiutarci a capire meglio la tematica. Quindi, cortesemente, chiedo al tecnico di far partire la presentazione sugli schermi. La maggior parte del materiale che vorrei mostrarvi si concentra su una delle aree principali dove si incontrano reti di traffici illeciti e di finanziamento al terrorismo vincolate a Hezbollah. Sembra curioso che occorra andare fino a un punto remoto dell'America Latina, quella regione dove Argentina, Paraguay e Brasile si incontrano alla confluenza di due grandi fiumi, un luogo forse più conosciuto al di fuori dell'America Latina come una meta turistica per le famose cascate o cataratte dell'Iguassù, la seconda cascata più grande del mondo dopo quella vittoria in Africa, anche la sede o il luogo dove esiste la più grande centrale idroelettrica del mondo per produzione energetica, ma in questo luogo per tutta una serie di motivi storici si incontrano gli intrecci più interessanti e produttivi tra crimine organizzato e Hezbollah. I temi principali che un po' riassumono l'approfondimento di oggi sono le conseguenze o gli elementi che vedete sullo schermo, cioè la cooperazione che esiste ormai da decenni tra reti legate a Hezbollah e il crimine organizzato, il fatto che Hezbollah essenzialmente attraverso le sue reti giochi un ruolo di intermediario nel trasporto, la logistica e nei servizi finanziari, io spesso dico che Hezbollah è per il crimine organizzato nel mondo un po' come Amazon, Federal Express e Western Union sono nel mondo legale, in quale senso? Che come Amazon offrono una piattaforma di intermediazione per la distribuzione dei prodotti, come Federal Express offrono un servizio affidabile di consegna di prodotti a livello globale e Western Union nel senso che offrono un servizio affidabile e veloce per il trasferimento dei fondi. Ovviamente queste tre grandi imprese globali lo fanno in maniera legale e trasparente, nel caso di Hezbollah si tratta di gestire dei servizi per traffici illeciti, però la loro matrice globale, la presenza di reti globali, offrono un vantaggio alle organizzazioni criminali transnazionali proprio perché anche le organizzazioni criminali transnazionali non hanno la capacità di creare un'infrastruttura di sostegno dei loro traffici in tutto il mondo e quindi fanno una specie di outsourcing a terzi e questo è uno dei ruoli importanti di Hezbollah. Per ovviamente addempire questo compito occorre tra le tante cose oliare la macchina e gli ingranaggi del traffico e questo comporta sistematicamente il ricorso alla corruzione per comprare influenza che permetta di in qualche modo garantire la fluidità e la continuità di questi traffici. L'influenza che si compra ovviamente parte dai bassi gradi della burocrazia partendo da guardie frontaliere, funzionari della dogana e lavoratori dei porti o degli aeroporti nel settore sicurezza ma che poi sale fino ovviamente ad arrivare ai più alti livelli della politica con esempi che ho citato nella mia presentazione che includono per esempio il Paraguay stesso uno dei centri principali delle attività di Hezbollah ma anche altri paesi come in Africa occidentale dove il rapporto economico e politico tra rappresentanti di Hezbollah e i presidenti di quei paesi ha garantito attraverso la corruzione la creazione di importanti centri di attività economica che hanno robustamente finanziato Hezbollah nel corso degli anni. Ovviamente l'altro elemento importante è l'affidabilità della rete attraverso la presenza in queste reti di membri della diaspora sciita libanese che sono fortemente legati al partito non solo necessariamente per essere membri integranti ma più volte semplicemente per vincoli di parentela di amicizia e anche di origine geografica cioè l'essere cresciuti o venire dagli stessi piccoli paesi e villaggi del sud del Libano ed essendo la diaspora e vorrei qui offrirvi un attimo un esempio di cosa è la diaspora libanese nel mondo essendo la diaspora sostanzialmente globale molto spesso queste reti in qualche modo riproducono e riflettono i vincoli familiari. Un esempio che cito nella mia testimonianza scritta è quella del clan Barakat nella regione della tripla frontiera di Argentina, Brasile e Paraguay dove tre fratelli della famiglia Barakat sono sanzionati dagli Stati Uniti per essere implicati in traffici illeciti di finanziamento a Hezbollah. Il quarto fratello, Akram Barakat, è un membro del clero sciita libanese che è stato per molti anni nel Consiglio della Shura di Hezbollah cioè l'organo supremo di governo dell'organizzazione. Quindi spesso si incontrano questi fenomeni dove un membro della famiglia è un funzionario di alto rango, di medio rango o nel settore sicurezza o nel settore politico o nel settore religioso o di istruzione o finanziario di Hezbollah ma altri membri della famiglia sono nella diaspora e gestiscono i traffici. Un altro esempio è l'attuale rappresentante di Hezbollah per l'America Latina, lo sceicco Khalil Rizek che tra l'altro ha visitato Roma subito prima dell'inizio della pandemia del Covid, ospite del centro iraniano qui a Roma. Il fratello è un commerciante che lavora a San Paolo in Brasile. Quindi anche qui una tipologia che si incontra spesso dove il vincolo ideologico, i traffici illeciti e i rapporti familiari si intersecano e si rafforzano l'un l'altro. Ovviamente questo fa sì che Hezbollah non sia solo una organizzazione politica che utilizza il terrorismo ma che sia una vera e propria attività globale con risvolti criminali. L'importanza di queste fonti di finanziamento è talmente grande che a un certo punto nella storia di Hezbollah avviene una decisione di formalizzare la struttura di comando che in qualche modo gestisce e governa queste attività. Ovviamente la parte più tecnica o tattica nella gestione quotidiana è informale ed è gestita localmente dalle varie reti. Però ai livelli più alti il comando è nelle mani di rappresentanti di Hezbollah molto influenti. Ho citato nella mia testimonianza scritta e in particolare il ruolo di Abdallah Safieddin, il rappresentante di Hezbollah a Teheran che è sostanzialmente il capo della struttura economica che si chiama la componente degli affari di Hezbollah. Safieddin è un cugino primo del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah. Il fratello è membro del Consiglio della Shura ed è considerato il successore di Nasrallah. Quindi ovviamente una posizione molto importante e ravvicinata alla leadership sia di Hezbollah che Iran che riflette l'importanza di questa struttura. e c'è una ragione molto semplice che è il fatto che Hezbollah ovviamente si finanzia in prima battuta grazie ai contributi iraniani ma per una serie di varie ragioni che includono l'aumento significativo del bilancio e delle attività di Hezbollah negli anni e anche la non sempre assicurata dipendibilità dell'Iran causa le sanzioni nel fornire i fondi. Hezbollah ha ampliato notevolmente le sue attività di autofinanziamento che oggi garantiscono almeno il 30% del suo bilancio annuale e probabilmente arrivano a finanziare fino al 40 o 50% delle sue attività. Quindi stiamo parlando di un volume di affari nelle centinaia di milioni di dollari all'anno. Quindi una cosa molto importante che fa sì che almeno a livello più alto la struttura si sia formalizzata e sia gestita in maniera gerarchica e centralizzata nelle più alte sfere di Hezbollah. Ecco qui potete vedere un esempio di quello che è la componente degli affari dove in questo caso si parla di una rete commerciale con base in Colombia e smascherata da un'inchiesta americana nel 2011 dove a capo della struttura c'è un libanese con cittadinanza colombiana e altri membri della sua famiglia che sostanzialmente facilitano delle spedizioni di grandi quantità di cocaina nei mercati di Europa e Stati Uniti e riciclano il denaro sporco che deriva dai proventi della vendita della cocaina passando per una complessa rete di affari e di commerci e di istituzioni finanziarie che sostanzialmente gestisce parallelamente un commercio di import export di auto usate che dagli Stati Uniti vanno in Africa occidentale. La vendita di queste auto usate genera profitti ma anche crea un canale finanziario dove immettere il denaro sporco. Il denaro transita da, e vi faccio vedere lo schema rapidamente sullo schermo, il denaro transita da istituzioni finanziarie che includono case di cambio e vere e proprie banche in Libano e poi questo denaro sempre passando da una serie di canali commerciali che includono il traffico di merci di vario genere ritorna finalmente alla base e viene ripatriato ai cartelli della droga in Colombia ma soltanto dopo che Hezbollah si tiene una commissione. Ecco quello che genera profitto per queste reti è il fatto che per garantire questo servizio ai sodalizi criminali Hezbollah essenzialmente prende una commissione per i suoi servizi. Questa commissione è molto importante. Nel caso della rete appena vista di Ayman Juma si parla di circa 20% di commissione, quindi su un volume di circa 200 milioni di dollari riciclati al mese prima di essere smascherata, questa rete generava per Hezbollah circa 480 milioni di dollari all'anno. Ovviamente parte di questi soldi non vanno a Hezbollah, servono per pagare i costi di operazione, compresa la corruzione dei politici, dei funzionari di dogana e così via. Ovviamente i membri della rete anch'essi ricevono denaro e traggono profitto da queste attività, però quello che rimane è una quantità di un gettito finanziario significativo che va a sostenere le attività di Hezbollah. Una inchiesta più recente della DEA in cooperazione con agenzie europee incluse e forze dell'ordine italiana nel 2016 porta allo smantellamento di un'altra rete che aveva base in Germania e Francia e Belgio e questa rete finanziava direttamente l'acquisto di armi per Hezbollah e che in quel periodo ovviamente era dispiegato con le sue forze in Siria e nella guerra civile. Questo quindi ci dà un'idea di come l'intreccio di cooperazione tra terrorismo e crimine organizzato alla fine non sia soltanto un fatto di criminalità organizzata, quindi non è solo un interesse delle forze dell'ordine, ma ha delle chiare implicazioni per gli interessi di sicurezza nazionale e di politica estera non solo degli Stati Uniti ma anche dell'Europa perché è chiaro come questi flussi finanziari foraggino l'instabilità in una regione come il Medio Oriente che è estremamente importante per i nostri interessi. Ecco io mi fermerei perché ho già preso i miei 20 minuti, ovviamente questi sono soltanto dei piccoli spunti per sollecitare interesse e spero domande e sono a disposizione e di nuovo ringrazio la Commissione per il gentile invito e è un grande onore poter essere qui al Parlamento italiano oggi, da cittadino italiano che vive all'estero sono emozionato per l'opportunità. Grazie molte, grazie. Grazie professore, chiedo se ci sono interventi. L'onorevole Orsini, ecco ricordo che l'onorevole Orsini con me ha fatto parte del protocollo di collaborazione tra la Camera e la CNESET nella precedente legislatura e ci siamo spesso occupati di queste tematiche. Prego. Grazie, vorrei ringraziare il professor Ottolenghi per aver accettato di essere presente a questa audizione alla quale mi sono permesso io di proporgli sfruttando una nostra vecchia conoscenza amicizia che risale ad altre ere geologiche e politiche del passato. Ritenevo che avesse molte cose interessanti da raccontare questa Commissione e la sua relazione ha confermato almeno a mio giudizio che questa audizione valeva la pena decisamente di essere fatta. Mi rimangono due o tre questioni o curiosità che vorrei buttare là chiedendo a Emanuele se può fare qualche approfondimento. Una riguarda proprio un aspetto tecnico. Bisogna immaginare per gestire una serie di operazioni così complesse che Esbola abbia una struttura amministrativa sofisticata in qualche misura e molto centralizzata e controllabile perché per operare in modo così ramificato su territori diversi, in realtà diverse, eccetera, senza che questi enormi flussi di denaro vadano dispersi o diventi l'oggetto di altri utilizzi criminali, eccetera. Bisogna che ci sia evidentemente dei meccanismi di forte controllo amministrativo centrale. Volevo sapere se si poteva sapere qualcosa di più su questo. Seconda domanda. Lei ha fatto qualche riferimento al rapporto con l'Iran. È notorio che Esbola è un movimento politicamente legato in modo forte al regime iraniano che, come sappiamo, alimenta l'instabilità in molte regioni del Medio Oriente e non soltanto e che è oggetto, soprattutto in questa stagione, di severe critiche anche per le sue repressioni interne. Volevo però capire meglio se nella gestione di questi flussi finanziari, l'Iran e quindi anche, essendo uno Stato sovrano, avendo una banca centrale, avendo dei canali diplomatici e altro, che voi sappiate sia in qualche modo coinvolto o se la sua attività di sostegno a Esbola sia indipendente da, in qualche modo indipendente da questa attività e vada su altri flussi su altri canali. Terza e ultima domanda. Di tutto quello che lei ci ha raccontato, negli Stati Uniti c'è un livello di consapevolezza significativo sia nell'autorità politica che nell'opinione pubblica, per quanto l'opinione pubblica segue la politica a essere, o è uno sforzo di approfondimento che voi fate ma che trovate delle difficoltà a far passare al di fuori della stretta cerchia dell'idea dei lavori. Grazie. Grazie. Billi. Anch'io ringrazio il Professor Ottolenghi, anche per l'utilissimo testo che ci ha lasciato. Io volevo cogliere questa occasione, Professore, per chiederle qualche dettaglio, qualche commento in più, soprattutto per quanto riguarda la situazione nei Balcani e in Montenegro, visto che per esempio in Montenegro il 19 marzo ci saranno le nuove elezioni presidenziali, che noi stiamo monitorando attentamente perché, come sapete tutti, la situazione nei Balcani è abbastanza, diciamo così, intricata e va monitorata. Immagino chiaramente che il terrorismo libanese c'entri poco con la situazione nei Balcani, però invece il terrorismo internazionale c'entra parecchio. È un'importante zona dove la sicurezza nazionale e anche la sicurezza europea deve essere considerata attentamente. Quindi grazie mille. L'Operfido, grazie. Grazie. Complimenti, la ringrazio per un'interessantissima relazione. È stato piacevole ascoltarla per molto più tempo, ma ovviamente mi ricollego alla domanda del collega se appunto, oltre alla questione Balcanica, se in Europa c'è da immaginare che ci possano essere una sorta di hub simile a quello che lei ha immaginato, dato che in Europa comunque è in continua espansione, fortunatamente, ma dove magari il livello anche di monitoraggio, controllo, sotto vari aspetti, può essere di diverso calibro rispetto a quello che magari può essere il livello che sarebbe da attendersi per contrastare questi fenomeni. Grazie. Onorevole Onori, da remoto. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Sentite? Sì, sì, sentiamo. Non si riesce a accendere lo schermo. Sì, perfetto, perfetto. Perfetto. Buongiorno a tutti, grazie Presidente, buongiorno al professor Ottolendi e ancora benvenuto nella nostra commissione. Volevo avere una curiosità da porle, che riguarda, mi ricollego alla domanda del mio collega Orsini, quindi il rapporto che si instaura poi tra Iran e Sbola, e nella fattispecie per quanto riguarda i rischi di un Iran nucleare. Volevo sapere come, insomma, dal suo punto di vista si potesse impadrare questo rischio nucleare in Iran in relazione al finanziamento o al supporto che questo potrebbe dare a Sbola e riferimento appunto all'ultima notizia del 28 febbraio. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha confermato il ritrovamento e il rilievo di particelle di uranio impoverito in una percentuale prossima a quella per cui l'uranio impoverito, arricchito, può essere utilizzato per gli armi nucleari. Tirana ha respinto questi risultati dicendo che questo 43,7% molto prossimo appunto al 90 sia frutto di fluttuazioni involontarie. Volevo sapere appunto come riuscisse, come inquadrasse lei il problema da questo punto di vista. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? No? Allora chiedo anch'io al professore quanto riesca Sbola a influenzare i regimi, i governi della Sud America. Grazie. Grazie. Tutte domande molto interessanti e importanti. Non so quanto tempo mi rimane ma cercherò di affrontarle tutte per quanto sia possibile. Comincio con la domanda dell'Onorevole Rossini sulla struttura e se posso chiedere al tecnico di rimettere un attimo la presentazione PowerPoint sullo schermo e vorrei offrirvi una visualizzazione proprio dell'organigramma di Hezbollah e della sua struttura gerarchica. Ovviamente la risposta è sì. Esiste una struttura amministrativa centralizzata e con una gerarchia. grazie. Ci arrivo subito. Eccoci. Questo lo vedete sullo schermo adesso è l'organigramma di Hezbollah. Alla, diciamo, in cima alla piramide c'è ovviamente il segretario generale e il consiglio della Shura che è composto da nove membri più il segretario. Due rappresentanti dei nove membri sono iraniani. Quindi questo sottolinea come sin dalle origini Hezbollah sia non solo ideologicamente perché come sappiamo Hezbollah accetta il principio della rivoluzione islamica della guida o della tutela del giurista. Quindi è un'organizzazione che gerarchicamente fa parte della struttura clericale e politica che governa lo Stato islamico in Iran e la leadership di Hezbollah ha un giuramento di lealtà nei confronti del leader supremo iraniano. Però, diciamo, è una struttura che anche proprio al di là dell'ideologia è integrata con quella di comando dell'Iran. Sotto il consiglio della Shura ci sono delle sottocommissioni che hanno, diciamo, dei compiti più definiti e la commissione della Jihad è quella incaricata di gestire l'aspetto sicurezza. La componente degli affari che descrivevo brevemente nella mia presentazione, nel mio scritto, è stata creata e formalizzata nel 2007 all'interno dell'unità 910 del Dipartimento della Jihad. La unità 910 viene a volte chiamata la organizzazione di sicurezza esterna, è quello che per mancanza di altri termini più adeguati in Italia e in Europa si considera l'ala militare di Hezbollah. Quindi la componente degli affari è integrale all'apparato di sicurezza esterno che è quello anche responsabile delle azioni terroristiche. Fin qui c'è quindi una struttura formale e gerarchica e ovviamente quando si vede la struttura degli altri dipartimenti si vede come ci sia un ampio grado di professionalizzazione delle funzioni e ci sia un apparato burocratico piuttosto sviluppato che gestisce differenti aree. Ora, quando si passa dalla gerarchia formale, la struttura e l'apparato burocratico alle attività vere e proprie all'estero, lì c'è un passaggio nell'informalità e i rapporti sono gestiti principalmente da un Dipartimento che si chiama il Dipartimento delle relazioni esterne di Hezbollah che è un po' come un piccolo Ministero degli Esteri il quale ha dei responsabili di area che gestiscono i rapporti con le comunità della diaspora, distribuiscono i contratti per le attività commerciali lecite e illecite, raccolgono i contributi e li trasferiscono alle casse dell'organizzazione. Alcuni di questi membri sono in Libano e altri invece sono nelle varie regioni che rappresentano. Qui potete vedere i rappresentanti del Dipartimento delle relazioni esterne per alcune regioni. come vedete c'è un misto di funzionari che arrivano dall'esperienza sicurezza e di clero, l'uomo segnalato in rosso era il rappresentante in America Latina, è stato sanzionato dagli Stati Uniti nel 2010 ma è rimasto libero di operare fino al 2018, lo vedete in una fotografia dell'epoca con l'allora governatore dello Stato di San Paolo in Brasile, quindi rapporti molto stretti con le alte gerarchie dello Stato, domanda che mi era stata rivolta prima, questi rapporti esistono e vengono coltivati assiduamente, esiste anche un rappresentante europeo ovviamente e quindi anche in Europa questa presenza si sente. Citavo l'operazione del 2016 in Europa, quella era una struttura molto importante negli schemi illeciti perché generava circa 20 milioni di euro al mese di proventi per Hezbollah che andavano a finanziare l'acquisto di equipaggiamento militare per sostenere lo sforzo bellico di Hezbollah in Siria e parte di queste attività continuano. Nella mia testimonianza scritta ho parlato di un caso italiano di criminalità organizzata che negozia l'acquisto di 8 tonnellate di cocaina da un fornitore colombiano e gli inquirenti smantellano questa rete prima che la droga arrivi in Italia e quello che è interessante rilevare nell'inchiesta si scopre che l'uomo incaricato dai colombiani di gestire il lavoro, l'aspetto finanziario dell'accordo commerciale, cioè il recupero dei fondi e il riciclaggio di Genaro Sporco è uno sciita libanese residente in Italia il quale sostanzialmente nella prima fase dell'accordo quando arriva un campione di cocaina in Italia e avviene un primo pagamento fa passare i soldi dal sistema bancario libanese per riciclarlo. Non è chiaro se effettivamente esista un vincolo con Hezbollah, gli inquirenti ovviamente stavano investigando un fenomeno di crimine organizzato italiano e quindi non avevano necessariamente la conoscenza e l'approfondimento di questo aspetto, ma è certamente un segnale che indica come queste strutture in Europa probabilmente esistano, anche perché l'Europa è un mercato importante per gli stupefacenti, per la cocaina e esiste una criminalità organizzata non solo in Italia ovviamente che gestisce questi traffici e quindi appare naturale e ovvio che ci possano essere degli intermediari incaricati di fare questa attività di riciclaggio e che godano della fiducia di entrambi i contraenti degli accordi commerciali illeciti, cioè i cartelli della droga colombiani o sudamericani da un lato il crimine organizzato nostrano dall'altro. Hezbollah gode di una certa misura di indipendenza nella gestione di questi traffici, ma è chiaro dalla documentazione processuale di molti di questi casi che molto spesso c'è un coordinamento con l'Iran, il quale non solo facilita e aiuta questi traffici, ma in certi casi ne beneficia. Cito un caso in particolare nella mia testimonianza scritta dove una imprenditrice libanese con passaporto francese arrestata dagli Stati Uniti nel 2014 non solo facilita il riciclaggio per organizzazioni criminali, ma nelle sue interazioni con gli agenti infiltrati della DEA che la stanno tallonando e oltre ad offrirsi come intermediaria finanziaria per il riciclaggio, e cerca anche di acquistare componenti di ricambio per la flotta aerea iraniana che è sotto sanzioni, come voi sapete, e quindi che ha difficoltà nell'ottenere questi prodotti, sia cerca di procurare delle armi. Quindi vediamo in questo caso, e ce ne sono altri, per esempio nel settore di acquisto della tecnologia richiesta per il programma dei droni, dove sono agenti di Hezbollah che creano delle reti per acquistare i prodotti in Occidente e farli arrivare per vie contorte, con imprese fittizie, fino all'Iran. Quindi è una simbiosi che beneficia Hezbollah in certi casi e beneficia l'Iran in altri. Ritornando al tema Iran, o guardando ancora il tema Iran, direi che per quanto riguarda l'Europa, in particolare i Balcani che venivano citati prima, mentre la presenza di Hezbollah e delle sue reti nei Balcani non è ancora apparsa in maniera prominente, almeno non sul mio radar, però è evidente che la presenza iraniana nei Balcani sia un fatto consolidato, che ha origine nella guerra civile dell'ex Yugoslavia, quando l'Iran si interpose come fornitore di armi durante l'embargo occidentale alla Bosnia-Herzegovina. E questo permise agli iraniani di creare una base logistica e una presenza in Bosnia. E oggi come oggi c'è anche un rapporto economico, commerciale e militare che si sta sviluppando tra Serbia e Iran. Nei traffici aerei tra Iran e Venezuela, la Serbia negli ultimi due anni ha offerto una base di transito e di appoggio tecnico e logistico ai voli iraniani che passavano da Teheran a Caracas e ritorno. E le visite di delegazioni commerciali militari iraniane nei Balcani sono aumentate. Da ultimo una recentissima visita del ministro degli esteri iraniano sia a Belgrado che a Sarajevo. Quindi certamente è un elemento importante da monitorare, anche perché l'Iran, come probabilmente voi sapete, è stato citato come il colpevole di un forte attacco cibernetico all'Albania l'anno scorso, che ha portato all'espulsione dei diplomatici iraniani da Tirana. E l'Iran, in addizione a questi rapporti politici, economici e commerciali, ha anche sviluppato in tutti i Balcani una presenza religiosa, culturale, che è sostanzialmente una facciata per diffondere la propaganda del regime, per fare accoliti, per radicalizzare e indottrinare i propri accoliti e anche per sviluppare un quadro clericale, politico, religioso, ideologico, locale attraverso il reclutamento e l'addestramento di queste persone. Anche in Italia abbiamo questo fenomeno che è guidato da principalmente personaggi che sono stati in Iran a studiare nelle scuole del regime e quindi questo fenomeno sta avvenendo anche nei Balcani. Negli Stati Uniti certamente c'è più attenzione a questo fenomeno, io ho sempre attribuito la differenza in parte al fatto che l'Europa come priorità di minacce alla sicurezza interna predilige o si concentra piuttosto sull'aspetto sunnita del fondamentalismo islamico, però vi ha ragioni per il tipo di emigrazione che arriva in Italia, per il tipo di comunità che abbiamo in Europa, è una minaccia molto più immediata e visibile e preoccupante anche come volume numerico, però certamente queste reti esistono anche in Europa, in Germania recentemente ci sono state azioni di polizia contro queste reti, in Francia pure e come citavo il caso del 2016 ovviamente le reti criminali legate a Hezbollah sono state sempre attive anche in questa regione, quindi certamente auspico che questo tema possa diventare o riceva più attenzione anche in Italia perché al di là di qualsiasi altra considerazione la simbiosi tra crimine organizzato e finanziamento al terrorismo in un'epoca in cui il crimine organizzato aumenta il volume dei suoi redditi e quindi aumenta potenzialmente la sua influenza, l'impatto sulle nostre società e questa simbiosi dovrebbe preoccuparci tutti e questo chiaramente è un fatto che in particolare condiziona i paesi dell'America Latina dove la corruzione è un fenomeno prevalente nella gestione degli affari pubblici al di là e a prescindere ovviamente della presenza di Hezbollah e questo quindi è uno strumento che Hezbollah ha usato in maniera aggressiva ed efficace per acquistare influenza. Non è un caso, io credo, che questi fenomeni di corruzione e di reti illecite si siano sviluppati prevalentemente in paesi come l'America Latina e l'Africa Occidentale dove le istituzioni sono ancora deboli, i controlli di frontiera sono piuttosto limitati e la povertà e la cultura politica sono tali che sia possibile acquistare influenza molto più facilmente ed efficacemente che altrove. Spero di aver coperto tutto, mi scuso se ho preso troppo tempo e ringrazio di nuovo. Grazie davvero professore, richiaro conclusa l'audizione.